Io sono Gamaplay ed oggi finalmente siamo nati in questo nuovo video e da un sacco di tempo che non faccio video Allora ragazzi ho tolto quella skin di prima Di rossa e mi sono presa qua e mi sono presa quest'altra Perché la trovo più carina Allora ragazzi l'altra volta eravamo rimasti che dovevamo infatti superare il record di 38.000 E non so 38.960 Adesso proveremo a superarlo Magari dopo me di notte sarà un po' difficile Ecco qui Ragazzi devo prendere un attimo la mano Vabbè Poco Muoricci La gente che si rompe i punti Questo serve I miei punti Bastardo Va bene Allora Andiamo a 531 Non so perché si blocca Vai Preso Tu sei mio Fuggi Ma se sono arrivate per il mio Ma vanno fanno culo No Ragazzi non ci fanno venire Questo bastardo di merda Ma vanno fanno culo Ma vanno fanno culo Andiamo E baffanculo Un anetto di merda Devo prendere uno grosso Devo cercare Di non morire Sì Sì Preso E ora? E ora come fai a uscire? Stronzo Come fai? Devi socciderti Stronzo Vabbè ragazzi Io non lo so Così grande non sbaglio No come vengarmi Andiamo Oh Gente come tutti i punti Anche i miei No come vengarmi Sì, sì, uno grande, uno grande, ucciso, uno grande, da me. Vai a morire così, come? Sì 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 Baffanculo Sì 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 Grazie per la visione